Ho trascosto una giornata di grandissimo interesse, sono venuto qui per lavoro perché è importante per l'ambasciata avere dei rapporti diretti con il Peloponneso, col territorio, ma oltre a lavorare ho trovato un grande interesse sul piano personale della mia cultura. Ho visitato l'antica Messines e sono dei resti archeologici un patrimonio impressionante. Ho avuto un incontro con il sindaco che è stato molto utile e fruttoso, con i rappresentanti della peniferia, tutti intesi a cercare di intensificare i rapporti tra i nostri territori, Peloponneso e la Grecia in genere. E tutti di incontro sono tanti, vanno appunto sfruttati appieno con intelligenza e con fantasia, guardando avanti e non indietro. Ho detto che è stato molto grafico di Messines, ho avuto una molto grafica giornata, ho scoperto l'antica Messines, che è un'antica Messines, che è un'antica appunto e ha un'antica di blasto che ha avuto in quanto riguarda il nostro campo. Come con leолет92 e la politica Messines, ho avuto un'antica appunto in Italia e che avevano la spaziale di interesse, si sono le rapporti sul campo e il territorio in Italia, come con i rapporti di interesse e il territorio secondo il territorio all'antica appunto e di interesse di interesse e secondo il territorio Ci sono alcuni stessi che potrebbero lavorare insieme. Il risultato è che dovremmo stare sempre davanti, non davanti, perché abbiamo tutte le possibilità di avere un'attività a presto.